il video è un video di un'altra parte ora adesso levi vengo ma tu cazzo che ti ho divertito ma che cazzo che ti faccio muovimi su tua parete dammi la stessa mano compa levi te nassi levi te si vatti in lontano uno due chiacchite venga a farli sempre venga a farli sempre ma che venga a farlo uno che non c'è tempo in mano questa mattina ma questa mi ha visto un sangue non mi faccio scappare una botta di pompe nelle musei ma tu cazzo sei trementivo e e e Grazie a tutti.